Il PD ha tutto tranne che la compattezza, ma su questi li capisco, sono allo sbando, sono disperati. La Lega al contrattacco. In caso di elezioni anticipate, sempre più insistenti le voci che vedrebbero il capogruppo del Carroccio in comune, Sandro Zampese, come prossimo candidato sindaco del Movimento. Il suo affondo contro l'Aleopoldo di Manildo di domenica scorsa. Dovrebbe usare, come stato eletto dei cittadini trevigiani, il suo ruolo di sindaco per fare amministrazione nel suo comune, nel comune di Treviso, e non per farsi un trampolino di lancio alle politiche, perché questo è il risultato della sua azione. Chiarezza e concretezza. Questo è quello che chiede la Lega cittadina a cominciare dalle spiegazioni sull'annullata conferenza stampa del sindaco in merito al Valzer di Deleghe. Prometti una conferenza stampa per dare spiegazioni al pubblico, legittime, giuste ed esigibili spiegazioni, e poi annulli tutto. Ma non ho parole. Per Treviso ci vuole un progetto di rinascita. Questa giunta ha dimostrato di essere distante anni e luce dai veri problemi della gente, a cominciare da quelli del commercio. Così i consiglieri leghisti. Il sindaco deve rendersi conto che non è capace di governare la città con questa maggioranza e quindi che rassegni le sue dimissioni per il bene di Treviso e dei cittadini, se veramente tiene a Treviso i suoi cittadini.